Ciao, non ci fate sentire soli, va bene? Fate qualcosa! Questo è un gruppo inedito, sono tutti i pezzi nostri in una situazione bellissima come questa, tra l'altro dove ci sono tante cover, però i nostri pezzi sicuramente non li avrete mai sentiti a parte di qualcuno, insomma. Io sono Alessandro Natalia, ovviamente oltre a noi c'è Germano Reduce, non so chi se lo ricorda, e fermo ne ricordo assolutamente Lilli Forgulliver e Rocky che è un batterista per eccellenza a Messina, insomma, voglio dire. Ci fate un applauso per favore, piccolino! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, uno, 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 check, check, Sì! Sì, uomo. Ok, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.